Qualificazione Russia 2018 Mino Danimarca, vittoria capitale in Armenia. Ok l'Azerbaijan. 6 Corian, A, 16, 82 e 90 più 3 dell'Anei, D, 29 Erizen, D. Armenia 3412, Melizetian, Ambarzumian, Aroian, Andonian, Ovannisian, Gregorian, Iedigarian, Airapetian, 38 Dagbazian, Mkhitaryan, Adamian, 58 Barsegian, Corian, 76 Odsbiliz, Ol. Petrosian. Danimarca 4213, Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, B, Geland, Larsen, Kvist, Delaney, Erizen, Cornelius, 78 Schoene, Georgensen, Sisto, 67 Fischer. Ol. Areide. La Danimarca. La Danimarca prosegue la propria corsa verso il Mondiale di Russia 2018, balzando almeno per poche ore in testa al gruppo e grazie al pesante 1-4 conquistato in Armenia. Areide va con gli stessi 11 che hanno battuto la Polonia, Cornelius inizialmente a destra Consisto a sinistra e Georgensen in mezzo, una strategia che alla lunga paga, ma all'inizio un diagonale di Adamian spaventa i nordici, che vanno sotto al 6. Corian trova il terzo gol in nazionale con un destro dai 25 metri che si infila all'incrocio opposto. Reagisce la Danimarca con Cornelius, che dopo rimpallo calcia sul portiere da pochi passi. Il pari è solo questione di tempo, su un cross da destra di Dalsgaard si avventa Delaney, che è abbandonato in piena area in corna L1-1. Ancora Cornelius va vicino al vantaggio, che trova poi Erisen alla mezzora con una punizione deliziosa a giro. Il mediano del Werder fa. Anche le cose in grande, incornata vincente su corner all'ultimo respiro, 1-4 finale. Danimarca a quota 16, aggancia la Polonia per una notte e attende Montenegro. Armene fuori dai giochi. Ponte immagine, Twitter chiocciola FIFA World Cup. Azerbaijan, San Marino 5-1. 20 e 57 Ismailov, a, 25 Abdullayev, a, 71 Out. Cevoli, s, 73 Palazzi, s, 81 Sadigov, a. Azerbaijan. Azerbai. Azerbaijan 4-33, agghaiev, Mirzabekov, Sadigov, guliev, Khalilzadeh, useinov, 69 Garayev, amir guliev, rischar almeida, Ismailov, 62 Ramazzanov, shidaev, abdullayev, 72 Dadashov. ol. prosinichi. San Marino 3-5-1-1, Simoncini, Cesarini, Della Valle, Cevoli, Palazzi, Grandoni, Gasperoni, 77 Irc, Cervellini, Ventitosi, Golinucci, Tomassini, Rinaldi. Ol. Manzaroli. 3 punti in cassaforte per l'Azerbaijan, che raggiunge la doppia cifra nel girone C di qualificazione a Russia 2018 battendo San Marino tra le mura amiche, finale in gole ad A, 5-1. La squadra di Prosinechi parte piano, ma quanto alza i ritmi incide subito, Ismailov impegna di testa Simoncini che ha un buon riflesso, l'azione prosegue con Abdullah Yev e crossa sul secondo palo di nuovo per l'Ala destra, che stavolta col piatto volante non sbaglia e fa 1-0 al 20. I ruoli si invertono 5 minuti dopo, Abdullah Yev firma il raddoppio dopo una fuga sulla destra di Ismailov e il liscio di Almeida a centro area. La partita la fanno i padroni di casa, Simoncini è come al solito chiamato al lavoro extra mentre i suoi provano a cercare Rinaldi con alcuni lanci lunghi non precisi. Nella ripresa incrementa la dose ancora Ismailov, stavolta al termine di una buona azione solitaria con un preciso diagonale che non lascia scampo al portiere. Shida Yev ci prova invece a giro senza trovare lo specchio per poco, mentre Rinaldi riesce ad andare al tiro col sinistro, largo. La zerba è già rallenta in ritmi riuscendo comunque a trovare il gol grazie ad un tocco di cevoli nella propria porta. Al 74 una gioia per gli ospiti, il colpo di testa di Palazzi che vale la rete della bandiera. L'ultima parola ce l'hanno però ancora i padroni di casa, perché Sadigov dai 17 metri realizza una splendida punizione. .